Ecco, buongiorno a tutti quanti, grazie tanto per l'invito a venire qua a Budrio, un paesino che non conoscevo, quindi è un'opportunità di esplorare qualche regione d'Italia che non conosco ancora. L'argomento che vorrei trattare qui, il ricordo anche di Enrico che voi avete conosciuto, che non conoscevo, ma è il Libro dell'Esodo. E vorrei iniziare questa breve esplorazione del Libro dell'Esodo con un versetto che si trova nel capitolo 3, versetto 12, all'interno di una sezione abbastanza lunga, la vocazione di Mosè nella famosa scena del roveto ardente. Allora, a un certo punto Mosè chiede un segno al Signore e il Signore gli risponde, io sarò con te e ecco il segno che io ti ho mandato, cioè quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, adorerete Dio su questa montagna, servirete Dio presso questa montagna. Io prendo questo versetto per iniziare la mia esplorazione e spiegazione del Libro dell'Esodo per questo motivo. Qui appare un verbo, un verbo chiave di tutto il Libro dell'Esodo, servire. Dopo essere usciti dall'Egitto, quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio presso questa montagna. E come mai questo verbo è un verbo chiave? Perché questo verbo è un verbo chiave? Il Libro dell'Esodo, direi, è un libro abbastanza complesso, è complesso come tanti libri della Bibbia, come tutti i libri della Bibbia potremmo dire, che rassomiglia a un'antica città, una città come le nostre città, come Bologna, come Milano, come Torino, come Napoli, Roma, Palermo, e che sono città abitate per tanti secoli. Quindi con un centro storico, anche il centro storico è stato rimaneggiato più volte, ci sono palazzi di diverse epoche, epoche molto antiche, ogni tanto si ritrovano ruderi romani o edifici costruiti su fondamenta romane, fino agli edifici costruiti negli ultimi decenni. E quindi in un libro come il Libro dell'Esodo troviamo anche parti molto antiche, parti molto recenti, è tutto un po' l'uno accanto all'altro, tutto giusto a posto. Ci vuole una certa conoscenza della città per ritrovarsi anche nelle viuzze, nelle vie, i viali, e riconoscere le diverse epoche. Però è una città, quindi ha una sua unità, che porta un certo nome, come qui il Libro dell'Esodo. Allora scelgo questo versetto 12 del capitolo 3 come guida attraverso il Libro dell'Esodo, perché ti appare qui, penso, un elemento essenziale di tutto il Libro, cioè servire, servire, servizio. E la domanda che si pone sin dall'inizio del Libro dell'Esodo è di sapere chi si deve servire. Chi si deve servire? Sì, o chi Israele deve servire? E il primo problema, prima domanda, sorge già nel primo capitolo, perché Israele è arrivato in Egitto, sappiamo, conosciamo la storia, con Giuseppe, poi Giuseppe ha chiamato tutta la famiglia, che è venuta a stabilirsi in Egitto, e lì è diventato un popolo numeroso, sono moltiplicati, sono diventati numerosi, un popolo molto grande, e arriva allora il famoso faraone che non conosceva Giuseppe e che prende paura perché gli immigrati hanno troppi figli, accenno a una situazione conosciuta un po' più recente del Libro dell'Esodo, dove questi hanno molti figli, e allora il faraone prende paura e dice ma cosa fare per limitare le nascite? E la misura che prende finalmente, riassumo brevemente il testo, poi torneremo sui particolari, è di ridurre le schiavitù, faremo dei schiavi. Quindi il popolo di Israele, che diventa numeroso, viene impiegato a lavori forzati, a corvè, quindi devono partecipare alle costruzioni di città. Poi nel capitolo quinto si parla di un lavoro molto specifico, cioè la fabbricazione dei mattoni. Però perdono la libertà, diventano tutti schiavi. E allora il primo problema è sapere se Israele può rimanere schiavo, sì o no. È schiavo del faraone, sì. E nella storia arriva la vocazione di Mosè, cioè Mosè viene chiamato dal Signore per far uscire Israele dall'Igito. Far uscire, nel vocabolario dell'epoca, significa anche liberare, affrancare. Far uscire dall'Egitto significa liberare dal faraone, dalla servitù. E così c'è un titolo di un libro, sul libro, di un libro, un commentario all'esolo, scritto negli anni Sessanta, quindi prima del diluvio, prima del concilio, diluvio-concilio, forse non è. di un sacerdote francese, un esergeta francese, Georges Rosu, e il titolo, ben certo, aveva l'arte di scegliere titoli fantastici per i suoi commentari del libro della Bibbia, dalla servitù al servizio. Dalla servitù al servizio. Far uscire Israele dall'Egitto e liberare Israele dalla schiavitù, farne un popolo libero, però libero per servire il Signore. Ora, in ebraico, nelle lingue antiche, ma soprattutto in ebraico, è lo stesso verbo, è la stessa parola, che significa lavoro, schiavitù, servitù, significa anche servizio, però anche liturgia, è lavoro. La stessa parola, in ebraico, ha tutti questi significati. In realtà, la parola liturgia, in greco, significa anche servizio. L'ho scoperto per puro caso, ma come anche in greco moderno, andando ad Atene, sono andato al grande museo nazionale, e allora, lì sulla porta, all'entrata del museo, c'è una scritta, no, per dire quando è aperto il museo. In inglese, visiting hours, e in greco, ores liturgias, le ore di liturgia, ore di servizio, ore di apertura. Liturgia si dice servizio, lavoro, ecco. Tutto quello per dire che, allora, Israele può uscire, uscirà dall'Egitto, dopo le piaghe, la Pasqua, Pasqua, primo servizio, prima liturgia, no, prima liturgia, primo servizio, servizio liturgico. stessa parola, come ha detto in ebraico, il Popolo Libero celebra, prima ancora di uscire dall'Egitto, quella prima volta, celebra il suo Signore, nella prima liturgia, che è la liturgia della Pasqua, del passaggio, no, che ricorda l'uscita dall'Egitto. E poi esce dall'Egitto, come sappiamo, no, dopo tre giorni, il faravone ritrova, ci ripensa, a ritrovare, a recuperare la sua manodopera, e assistiamo al famoso racconto del passaggio del mare, nel miracolo del mare, capitolo 14, una lettura che facciamo ogni anno durante la Vene a Pasquale, e si ritrova nel deserto. E lì potremmo dire, no, ma Dio regna, Dio regna sul suo popolo, il popolo è liberato al servizio di Dio. Però c'è un altro problema che sorge dopo la proclamazione della legge, no, e vedremo che la legge nel mondo biblico, specialmente nel mondo dell'Esodo, non è in contraddizione con la libertà. Questa è una mentalità molto moderna, post-esilica, direi, di dire che la libertà è limitata dalla legge. No, no, è proprio il contrario nella Bibbia. Dio proclama la legge, il popolo l'accetta, c'è un rituale al quale Israele promette di osservare la legge e si conclude in alleanza. Questo è il quadro rituale e giuridico di tutta quella percezione è l'alleanza. Israele e Dio conclude in alleanza, o Dio conclude in alleanza con il suo popolo e il popolo promette di osservare la legge. Bene, bastano 40 giorni per già cambiare idea, no, conosciamo tutto questo, Mosè sale sulla montagna e poi Dio gli spiega come costruire la tenda dell'incontro, cioè il santuario, e nel frattempo gli israeliti vanno in discoteca, cioè in discoteca non vogliamo dire, ma cominciano ad annoiarsi e preferiscono allora trovare qualche occupazione un po' più interessante e chiedono ad Aronne di fabbricare il vittello d'oro. Quindi il primo concorrente del Signore, della sovranità del Signore è il Faraone, quindi c'è concorrenza fra Dio e il Signore, rivalità, trionfa il Signore e arriva il secondo rivale, cioè il vittello d'oro. Bene, Mosè scende dalla montagna, distrugge il vittello d'oro e conclude una seconda alleanza e allora dopo la seconda alleanza o il rinnovamento dell'alleanza con fra Dio e il popolo nel capitolo 34 non 33 soprattutto il 34 allora assistiamo alla costruzione del santuario nel quale Dio scende nel capitolo 40. Riprendo brevemente tutto quello che ho provato a spiegare adesso a partire al capitolo 40 il libro dell'Esodo si conclude quando Dio scende dal monte Sinai la nube, la gloria del Signore hanno tutti i simboli che conosciamo, cioè la nube, la colonna di nube o la gloria del Signore viene ad abitare nella tenda e lì si conclude Israele però rimane nei pressi del monte Sinai al piede del monte Sinai fino al capitolo 10 del libro dei numeri quindi c'è tutto un libro il libro del Levitico noiosissimo che probabilmente nessuno di voi ha mai letto e non vi invito a leggerlo perché è noiosissimo con tutte le regole sui sacrifici così via tutte le regole della liturgia tutto questo il libro del Levitico poi il libro dei numeri il popolo si prepara a viaggiare a attraversare il deserto no e andare verso la terra promessa e fino al capitolo 10 del libro dei numeri siamo proprio presso il monte Sinai perché il libro dell'esolo finisce nel capitolo 40 e c'è un motivo qui bisogna tornare non soltanto all'inizio del libro dell'esodo ma all'inizio del libro della Genesi all'inizio del libro della Genesi abbiamo un lungo racconto della creazione in sette giorni e Dio crea la luce come sappiamo poi separa le acque fa crescere l'erba sulla terra asciutta e poi installa il grande orologio di due l'universo cioè il sole la luna le stelle per fissare tutti i tempi e poi crea gli animali prima coppia umana e poi sabato e questo racconto se uno lo studia bene soprattutto lo confronta con altri racconti dello stesso tipo che conosciamo dal vicino oriente antico manca qualche cosa manca qualche cosa alla fine del racconto cioè in tutti i racconti del vicino oriente antico in Babilonia il famoso racconto di Numa Elish poi i racconti di Ugarit cioè una città della Fenicia che si trova nella Siria attuale dove c'è un Dio che conosciamo perché lo ritroviamo nella Bibbia è Dio Baal Dio Baal anche vince il mare così organizza l'universo quando il Dio creatore la divinità che crea organizza l'universo ha finito il suo lavoro cosa fa? si fa costruire un tempio un tempio e c'è Ugarit così come in Babilonia alla fine nel racconto di creazione una descrizione del tempio della divinità perché perché il Dio la divinità che ha creato l'universo viene a regnare sull'universo creato quindi costruisce il suo palazzo esattamente come un re un sovrano si conquista un reno un impero poi si sceglie una capitale e si fa costruire il suo palazzo in mezzo al suo reno al suo impero per significare che ormai è lui il re il sovrano e quindi il Dio creatore nello stesso modo i racconti utilizzano le stesse immagini si costruisce un tempio e da questo tempio è il tempio della divinità nel mondo antico è il palazzo la casa così nella Bibbia si fa la casa del Signore e il suo palazzo per noi un tempio è piuttosto un luogo dove si raduna la gente per pregare per le liturgie così la prima funzione il primo ruolo di un tempio nel mondo antico è di significare la presenza di questa divinità e questa divinità la nostra divinità che regna regna su questo territorio come un re ha un suo palazzo e il palazzo del re è il palazzo del sovrano tutto il territorio quindi il racconto della Genesi è incompleto manca un tempio non c'è il tempio e dove è il tempio e perché non c'è il tempio perché non c'è il tempio è molto semplice Dio non ha ancora un popolo è ancora il Dio di tutto l'universo di tutte le nazioni e Dio si sceglierà un popolo soltanto a partire dal capitolo 12 quando chiama Abramo Abramo è l'antenato del suo popolo Israele è un popolo molto giovane gli altri popoli sono tutti menzionati elencati nel capitolo 10 dopo il diluvio abbiamo una tavola delle nazioni però in questa tavola delle nazioni manca un popolo manca il popolo di Israele c'è soltanto l'antenato lontano cioè Sem il primo genito di Noè che sarà l'antenato di Abramo dopo un bel paio di generazioni quindi Dio non si è ancora scelto un popolo non è il Dio di un popolo quindi Dio si sceglie il suo popolo gli antenati Abramo Isacco Giacobbe e così via Giuseppe che scende l'Egitto e quando inizia il libro dell'Esodo Israele diventa un popolo prima c'è soltanto la famiglia il libro della Genesi racconta gli inizi o le origini del popolo di Israele però abbiamo soltanto la storia di una famiglia una famiglia fin quando la famiglia diventa un po' più numerosa con i dodici figli di Giacobbe che scendono in Egitto e lì figli di Israele prende un altro significato in tutto il libro della Genesi figli di Israele sono figli di Giacobbe Giacobbe e Israele sono due nomi dello stesso patriarca ma figli di Israele all'inizio del libro dell'Esodo diventa sinonimo di Israeliti membro del popolo di Israele perché il popolo diventa numeroso non sono soltanto i dodici figli di Giacobbe Israele lì diventa un popolo l'inizio della storia però il popolo non è libero e nel mondo antico schiavi non possono proprio essere persone dicono quindi se Dio vuole essere onorato da un popolo deve essere un popolo libero non può essere il Dio di un popolo di schiavi è quasi un dovere dovere difficile parlare di dovere di Dio ma quasi una necessità di liberare il popolo qui Dio libera il popolo e il popolo è liberato entra nel deserto ma come detto lì il popolo si ribella rifiuta Dio rifiuta si sceglie un altro Dio il Dio delle discoteche se potrebbe dire infatti no il capito 32 dopo aver costruito il Vittello d'Oro si mettono a danzare e cantare bisogna eliminare anche questo rivale quando questo rivale è eliminato Mosè secondo le istruzioni di Dio costruisce la tenda e Dio entra nella tenda nel capitolo 40 e quello è il momento in cui Dio diventa il sovrano di Israele ha il suo popolo il suo popolo scelto popolo col quale ha concluso l'alleanza quindi il popolo diventa popolo di Dio e Dio può venire a regnare sul suo popolo nella tenda dell'incontro o il santuario costruito da Mosè e dico però due cose importanti in questo proposito prima di sviluppare altri aspetti del libro dell'Esodo sì il Dio che viene ad abitare nella tenda in mezzo al suo popolo il primo elemento importante è il creatore dell'universo no è il creatore dell'universo se seguiamo tutto il racconto tutto il libro della Genesi anche il cambiamento di nome e così via è lo stesso Dio quindi chi viene nella tenda non è soltanto il Dio di Israele il Dio di un solo popolo il Dio nazionale è anche il creatore dell'universo quindi viene a regnare sull'universo non soltanto sul suo popolo ma su tutto l'universo in questa tenda nel deserto e il secondo elemento mi sviluppo forse un po' più a lungo ma interessante vedere che normalmente Dio si costruisce un tempio un tempio solido piena tenda il vero tempio sarà costruito molto dopo tanti anni dopo da Salomone a Gerusalemme ma Dio non aspetta di essere arrivato a Gerusalemme non aspetta che il popolo sia arrivato a Gerusalemme per venire ad abitare in mezzo ad Israele non aspetta che il popolo abbia attraversato il deserto abbia attraversato il Giordano abbia conquistato la terra e abbia conquistato la città di Gerusalemme e che Salomone abbia costruito in tempo per venire ad abitare in mezzo al suo popolo no viene ad abitare nel deserto in una tenda una tenda che si sposta per dire le cose in modo molto semplice però penso che sia anche il modo di percepire un po' meglio il cambiamento che introduce questa immagine conosciamo i salmi i salmi i salmi del pellegrinaggio oh grande mia gioia quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore sono i salmi di pellegrinaggio il popolo va verso il suo Dio quindi l'immagine che abbiamo nei salmi non soltanto nei salmi ma anche nei profeti del pellegrinaggio del popolo e di tutti i popoli verso Gerusalemme no la prima lettura di domenica scorsa no il monte Sion diventa più alto di tutti i monti e confluiscono affluiscono tutti i popoli verso Gerusalemme quindi Gerusalemme è il centro il Tempio è il centro e il popolo gli israeliti e poi tutte le nazioni affluiscono a Gerusalemme si radunano nell'esodo non è quella l'immagine l'immagine è di un Dio pellegrino con i pellegrini si rovescia l'immagine non è il popolo che cammina verso il Tempio è il Tempio che cammina con il popolo cioè il Tempio si sposta e il Tempio si fa pellegrino fa parte del pellegrinaggio fa parte del viaggio Dio diventa un viandante con il suo popolo e accompagna il popolo quindi per essere con Dio non si deve camminare verso il Tempio bisogna camminare nel deserto seguire Dio perché è la colonna di nube che guida il popolo quindi il popolo segue il suo Dio che si fa pellegrino fra i pellegrini c'è tutto un cambiamento di immagine all'interno dell'Antico Testamento importante sull'immagine di Dio è un Dio che cammina viandante potete vedere che abbiamo già una immagine simile nel libro della Genesi perché Dio cammina con i suoi patriarchi con i patriarchi specialmente c'è un piccolo testo interessante capitolo 46 del libro della Genesi quando Giacobbe dopo aver sentito le notizie di suo figlio Giuseppe si è fatto riconoscere dai fratelli e poi invita il padre a andare in Egitto allora Giacobbe finalmente si decide c'è l'unico oracolo di Dio in tutta la storia di Giuseppe oracolo per Giacobbe sulla frontiera di Asceva Dio appare a Giacobbe e dice scendi in Egitto scendi in Egitto a Isacco aveva detto il contrario ma comunque tu puoi scendere in Egitto e io vado con te non ci sono mai stato è l'occasione faccio la valigia e vado con te in Egitto voglio vedere anche le piramidi una volta almeno io vado con te vado con te scendo con te poi ti farò tornare così vi farò tornare Giacobbe tornerà soltanto quando sarà morto ma significa anche Giacobbe Israele il popolo il popolo no la persona è anche simbolo di tutto il popolo quindi nel libro dell'Esodo questo Dio creatore dell'universo che certamente meritava più di Marducco di Bale di qualche divinità un tempio un bel tempio nel centro dell'universo si accontenta di una tenda per poter spostarsi con il popolo accompagnare il popolo guidare il popolo assistere il popolo aiutare il popolo nel cammino attraverso il deserto è già presente anticipa se volete la sua presenza permanente nel tempio di Gerusalemme in questa tenda in questo santuario e ritroviamo questa immagine in un testo che leggeremo durante il tempo di Natale il versetto 14 del primo capitolo di Giovanni il prologo di Giovanni il verbo si è fatto carne e ha piantato la sua tenda fra di noi si potrebbe tradurre così se uno va a ritrovare il verbo greco il significato del verbo greco ha piantato la sua tenda verso di noi e abbiamo visto la sua gloria ora è proprio la parola che si trova nel capitolo 40 del libro dell'esolo la gloria del Signore viene ad abitare nella tenda la gloria del Signore ormai per il Nuovo Testamento è la persona di Gesù Cristo abbiamo visto la sua gloria la gloria del figlio genito quindi tutti i simboli che troviamo nel libro dell'esolo si ritrovano o tutti una gran parte dei simboli si ritrovano nel prologo di Giovanni per descrivere l'internazione è un Dio che viene ad abitare in mezzo a noi nella forma forse inaspettata cioè è una persona umana con tutta la sua fragilità si è fatto carne carne è la parola nel Nuovo Testamento che descrive la persona umana sotto l'aspetto effimero fragile debole preo si tutte le caratteristiche della debolezza e la fragilità della natura umana non la maestà la gloria si ritrova nella fragilità e così anche Gesù nel capitolo 14 dei discorsi dopo la cena si descrive io sono la via la verità e la vita via verità e vita quindi per vivere con vivere l'ideale del Vangelo bisogna stare sulla strada camminare sulla strada è un cammino la vita è un cammino Gesù è la via e questa è la verità e questa è la vita non c'è altrove tutte le immagini che troviamo nell'Antico Testamento specialmente nel Libro dell'Esolo bene qui capiamo che tutto il Libro dell'Esolo è sul problema del servizio sovranità chi è il sovrano di Israele e chi Israele deve servire prima domanda prima difficoltà cioè servire il Faraone o Dio e nella seconda metà servire il vitello d'oro o Dio scelte e quando Dio ha vinto contro il Faraone e poi ha scartato il vitello d'oro allora Israele può venire ad abitare in mezzo al suo popolo e a regnare sul suo popolo adesso riprendiamo forse le diverse parti e proviamo ad approfondire un po' per quanto possibile questa idea di sovranità di servizio chi è il sovrano di Israele l'inizio del libro dell'esodo come sappiamo è il momento in cui Israele diventa un popolo numeroso e il Faraone decide di ridurlo in schiavitù prende diverse misure prima farlo lavorare e poi chiama le famose levatrici dicendo bisogna uccidere tutti i bambini maschi quando nascono e lasciamo vivere le figlie uno potrebbe dire ci sono un certo numero di piccole difficoltà contraddizioni non voglio qui insistere troppo ma uno potrebbe dire ma è un po' strano lui ha bisogno di mano d'opera e poi uccide tutti i maschi ma comunque vabbè facciamo come si sa non si deve mai discutere le decisioni dei politici e si vede già nella Bibbia non è molto logico ma è così poi le levatrici non obbediscono no è un testo molto interessante ricordo di aver sviluppato questo una volta per l'articoluccio a partire da le riflessioni di Gustavo Zagrebelsky che conoscevi che è stato capo della una corte costituzionale se non sbaglio comunque costituzionalista ma un giurista che in piccolo libretto parecchi anni fa il diritto mite fa una distinzione importante fra diritto e legge il diritto è legge il diritto normalmente non deve essere scritto il diritto fa parte della natura umana si potrebbe dire non della coscienza umana della natura umana che si prende diverse forme si può esprimersi in tanti modi diversi secondo le culture secondo le storie secondo le nazioni no è iscritto nel mondo umano nella società umana quindi non ha bisogno di essere proclamato non può essere modificato scusate è di qualcuno l'apolo grigio è di qualcuno che è già da loro scusate vai grazie a lei ok chiedo scusa ecco comunque torno al mio punto il diritto non deve essere proclamato da nessuna autorità non può essere modificato e non può essere abrogato è permanente universale non dipende non cambia da un territorio all'altro non cambia da un'epoca all'altra no sono i diritti fondamentali non sono questi famosi diritti umani si potrebbe dire un modo di provare a definirli ma ogni definizione è normalmente restrittiva mentre la legge è sempre proclamata da un'autorità può essere modificato una legge può essere modificata da questa autorità può essere abrogata da questa autorità e vale soltanto nel territorio per le persone che dipendono da questa autorità cioè la legge italiana vale in Italia non vale in Spagna no in Spagna vale la legge spagnola cioè non vale in Marocco in Tunisia e poi vale fin quando c'è un referendum per cambiarla o quando il Parlamento la cambia e poi si è abrogata e così via e allora aggiunge un esempio un bel esempio Gustavo Zagreveschi nel suo libro è Antigone prende un esempio dalla tragedia greca Antigone non conoscete la storia no? ci sono ribellioni contro Creonte che sono lo zio fratello di Edipo e due fratelli di Antigone si sono schierati uno a favore di Creonte e l'altro contro poi si incontrano si uccidono muoiono entrambi e Creonte dice colui che mi è stato fedele quello può essere sepolto l'altro invece no e Antigone dice sono entrambi i miei fratelli hanno entrambi il diritto alla sepoltura è un fratello una nemica uno schiavo e quindi di notte va a prendere un po' di polvere e sparge la polvere sul cadavere e questo basta per sepire però è stata scoperta condannata è stata una sepolta viva e così però questo provoca una catastrofe tremenda a te comunque dice Antigone a Gertopon a un certo punto io obbedisco non alla tua legge Creonte ma alla legge non scritta degli dei la legge non scritta degli dei quindi c'è la legge superiore a quella di Creonte e la legge non scritta iscritta nel cuore umano nella mente umana nella natura umana nella società umana e Antigone difende questo diritto questi diritti hanno normalmente da vedere con la nascita con il matrimonio con la sepoltura soprattutto da questi tre ambienti dove ritroviamo i diritti allora nel capitolo 2 capitolo fine capitolo 1 del libro dell'esodo così come l'inizio del capitolo 2 abbiamo una situazione di questo tipo il faraone emana una legge legge dicendo bisogna buttare nel lino tutti i figli tutti i figli degli ebrei tutti i bambini mastri cioè legge emanate un ordine decreto questo è la fine del capitolo prima il primo ordine legge del faraone alle elevatrici alle elevatrici sì sì anche insiste Gustavo Zagrebelski su un punto dice il diritto normalmente difeso dalle donne mentre la legge emanata dagli uomini in questo caso è proprio così il faraone no dà un ordine alle elevatrici di uccidere i bambini maschi alla loro nascita e allora il testo ebraico gioca un po' con le parole no in ebraico è possibile questo gioco di parole non si può rendere in italiano le quindi le elevatrici temettero il signore il faraone dice dovete guardare il bambino se è maschio lo dovete uscire se è una fila lo potete lasciare vivere si aspetta nella frase seguente e le elevatrici guardarono videro e uccisero in realtà il il verbo temere in ebraico molto simile al verbo vedere temere vedere molto simile allora uno si aspetta e vivero no e temettero temettero dio e lasciarono vivere tutti quanti significa che qui queste elevatrici no rispettano il diritto piuttosto che la legge il diritto per loro è più importante della legge significa c'è in egitto un'autorità superiore a quella del faraone quella di dio allora non è dio il dio di israele non col nome no è dio e si utilizza un'espressione che conosciamo il timore di dio ma timore di dio in queste circostanze in altre circostanze significa rispetto del diritto del diritto fondamentale di ogni persona queste elevatrici negano al faraone il diritto di decidere della vita alla morte di un bambino che nasce di un neonato il faraone non ha questo diritto è una contestazione del potere assoluto del faraone in un'epoca in cui il sovrano come il faraone aveva tutti i diritti era difficile contestare era l'incarnazione del diritto assoluto il faraone e il racconto biblico introduce una sfumatura no non è vero anche il sovrano più assoluto è limitato e quello lo descrive anche molto bene il racconto perché le elevatrici sono convocate dal faraone dice ma come mai e loro come mai no gli avevo dato un ordine non avete rispettato l'ordine e loro dicono le donne ebraiche sono più forti delle donne egiziane e partoriscono più rapidamente quindi non arriviamo e il faraone non risponde niente perché allora lì bisogna conoscere un po' la cultura del tempo cultura che abbiamo conosciuto fino a poco tempo fa quando una donna sta per partorire la prima cosa la prima cosa che si fa è mettere tutti gli uomini fuori un uomo non assiste mai a un parto il faraone è l'uomo quindi faraone tutto faraone che è non può assistere a un parto quindi nessuno può verificare quello che fanno le elevatrici e quello è il punto quindi il faraone deve riconoscere per forza di non avere un diritto assoluto lui non assiste mai a un parto e quindi non può andare a verificare quello che fanno le elevatrici e non può andare i suoi carabinieri a verificare no un carabiniere non può entrare in una sala parto non può non può questo è assolutamente escluso quindi c'è un limite lo deve ammettere che c'è un altro limite non può neanche decidere se il bambino può vivere o non può vivere e quello è portato al parossismo nell'inizio del capitolo secondo alla nascita di Mosè e quando nasce Mosè nasce proprio in questa atmosfera cioè lui è già condannato a morte appena nato Mosè il futuro salvatore deve essere salvato allora la madre la nasconde per tre mesi conosciamo la storia tutti si chiedono ma e dopo che cosa accadrà allora la madre la mette nella cesta la cesta che è ricoperta di pitume di asfalto si potrebbe dire e poi nasconde la cesta nel canneto vicino al Nilo e chi arriva la figlia del faraone allora possiamo fermarci un attimo a chiedere la figlia del faraone scopre la cesta e vede un bambino ebreo ebreo dice un ebreo allora può fare due cose rispettare la legge cioè la legge di suo padre e chi deve obbedire al faraone se non la figlia no? obbedire al padre e quindi prendere il bambino e buttarlo nel Nilo non è difficile l'ha trovato nel canneto vicino al Nilo quindi poco da fare ecco no? prenderlo e provvedere la cesta o ascoltare la voce del diritto dicendo il bambino il bambino non può essere ucciso non può cioè ha diritto a vivere come ogni essere umano e allora il bambino ha una idea geniale in questo momento proprio quando la figlia del faraone lo scopre cosa fa? l'unica cosa che può fare un neonato di tre mesi piange piange al momento giusto piange e quindi si commuove si commuove la figlia del faraone e lo salva non di meno va il racconto l'ho un po' abbellito la scelta è quella la figlia del faraone poteva obbedire obbedire all'ordine di suo padre o ascoltare la voce anonima come dice Antigone la legge non scritta degli dèi è quello che va certamente se qualcuno doveva obbedire al faraone era potuta la figlia ma significa che per il racconto biblico la voce del diritto è così forte che persino la figlia del sovrano che ha emanato alla legge disobbedisce è troppo forte così forte che la figlia disobbedisce persino la figlia di un sovrano assoluto come il faraone può non obbedire a una legge ingiusta tutte le leggi non sono giuste grazie a Dio ma quando c'è un conflitto ecco quello che accade secondo la Bibbia il racconto continua aspettiamo evidentemente che Mosè sia il liberatore di Israele che lui faccia uscire il popolo dalla schiavitù e così via come fare come fare no ci sono tanti modi di fare allora il racconto è molto interessante perché conosciamo forse questa storia che pone problemi Mosè viene educato allevato educato nella casa del faraone perché la figlia del faraone lo adotta adozione non è nel senso giuridico che questa parola oggi ma diventa suo figlio lo alleva lo educa come se fosse suo figlio poi quando lui diventa adulto esce esce dal palazzo del faraone e vede il primo conflitto è tutto un racconto emblematico evidentemente vede un egiziano che maltratta un ebreo può scegliere no? perché lui si dirà dopo egiziano che è stato educato come egiziano però il suo sangue è il sangue ebreo poi c'è un problema di giustizia no? si vede che l'uno maltratta l'altro beh sceglie cioè sceglie l'ebreo parla il sangue chiude l'educazione e quindi ammazza l'egiziano e lo nasconde nella sappia lo nasconde e non guarda a destra e a sinistra uccide a destra e a sinistra perché non ha autorità l'indomani altro caso più complicato questa volta sono due ebrei non c'entra più il problema di sapere se uno è fratello e l'altro no sono due ebrei però c'è uno che è colpevole e l'altro innocente come sappiamo questo il racconto lo dice tutto ma ferma allora Mosè deve scegliere di nuovo e qui si proietta il Mosè che ritroveremo dopo lui prende parti per colui che è innocente contro colui che è colpevole e anche lì però questa volta un po' più difficile perché colui che stava per avere una sculacciata una patossa dice ma chi ti ha fatto principe su di noi qual è la tua autorità poi tu vuoi uccidermi come ha ucciso l'eciziano significa la tua autorità è la tua forza perché tu sei forte non sei stato nutrito bene nel palazzo del faraone quindi vuoi utilizzare la tua forza per imporre il tuo diritto Mosè si accorge allora che la cosa è stata conosciuta qualcuno l'ha visto probabilmente o l'ha tradito e lui fugge nel deserto quindi significa penso che se leggiamo bene questo racconto e proviamo anche a capire significa che Mosè certamente ha il senso della solidarietà con il suo popolo no e ha anche il senso della giustizia però non ha autorità non ha vera autorità e secondo elemento usa la violenza e non è la via giusta cioè c'è sempre uno più forte e uno più forte in questo caso è il faraone e contro il faraone non può non può lottare quindi fuggire nel deserto l'unica soluzione in questo caso è la fuga e se ne va il il nostro amico Mosè quindi il salvatore futuro salvatore osperato atteso salvatore di Israele non si trova più in Egitto qui è fuori gioco bisogna trovare il modo di farlo tornare questo sarà il capitolo terzo però c'è una bella scena alla fine del capitolo secondo perché Mosè va nel deserto cosa fa? fa quello che hanno fatto i patriarchi va presso il pozzo per fare conoscenza non si va a Fontana di Trevi no? si va al pozzo perché lì si raduna la gente e arriva al pozzo un modo pozzo nella terra rimane e si siede lì e allora vede una scena che probabilmente si è ripetuta tante volte arrivano sette figlie sette le sette figlie del sacerdote del luogo ecco no? qualcuno dirà non si sposavano i sacerdoti siamo prima del concilio il sacerdote ha sette figlie e le sette figlie arrivano con le greggi e riempiono tutti gli abbeveratori quando tutto è riempito pronto arrivano i pastori mascalzoni cacciano via le figlie e si servono arrivano con i loro greggi e fanno bere pecore, capri e tutto quanto però questa volta questa volta c'era un certo Mosè vede questo lo conosciamo adesso no? rimbocca le maniche e da una bella battosta scolacciata a questi mascalzoni di poi va a prendere il secchio e riempie lui tutti gli abbeveratori e così le brave figlie possono arrivare con le loro greggi e abbeverare le loro greggi poi molto interessante il racconto è ben fatto tornano a casa e il padre quando le vede arrivare dice come mai? come mai siete così presto oggi? perché? allora le figlie raccontano ah sì ma oggi c'era un egiziano poi lui ha dato una bella battosta a tutti questi mascalzoni e poi lui stesso è andato al pozzo a riempire un secchio d'acqua e a beverare i nostri leggini è interessante paragonare il primo racconto fatto dal narratore da quello delle figlie che è molto più agitato pieno di dettagli e così via e il padre dice ma voi stupide dove l'avete lasciato questo? ma andate a giocarlo che venga qua perché? perché? vengono a capire sette figlie sette manca qualche cosa no? e manca un uomo in questa famiglia allora ce n'è uno che si occupa di voi e lo lasciate là ma stupido andate a giocarlo a meno che sia un uomo in questa casa no? e così il racconto subito dopo arriva alla conclusione no? conclusione attesa aspettata che possiamo immaginare e Mosè sposò la primogenica che lo andate a cercarlo che lo andate a mangiare e poi lui evidentemente dice ma ho sette figlie no? bella scelta qui Mosè si sposa con questa figlia però se si sposa lì allora evidentemente è casato diciamo per il lettore ma se lui ha famiglia lì allora il racconto tornerà in Egitto no? si stabilisce lì e ricordatevi all'inizio del capitolo 3 quando Dio appare è Mosè che si occupa del grece certo certo le figlie possono finalmente rimanere a casa e Mosè che andava ogni giorno al pozzo e quando i pastori lo vedevano arrivare si allontavano avevano ricevuto una bella lezione e l'avevano ricordata ecco ma non so fino a quando devo parlare ho detto Martino no 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 facciamo due momenti quindi facciamo una pausa si 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 facciamo una pausa che siamo soltanto a venire il capitolo 3 ce ne sono 40 quindi no 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 non faremo il 40 capitoli si 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 non facciamo il 40 capitoli non preoccupatevi comunque ho già fatto quasi tutto fino al capitolo 40 abbiamo visto l'essenziale ma mi sto fermo su alcuni particolari interessanti quindi introduco soltanto il capitolo 3 poi facciamo una piccola pausa no va bene si e all'inizio del capitolo 3 siamo nel deserto e Mosè che si occupa del greggio di suo suocero Pietro Rewello e allora un giorno va un po' più lontano nel deserto si inoltra e vede qualche cosa di strano cioè c'è un cespulio un roveto che sta bruciando sta bruciando però non si consuma cioè si brucia brucia per un certo tempo poi tutto bruciato rimangono ceneri no no brucia brucia continua a bruciare e allora Mosè ma perché questo roveto sta bruciando e non si consuma e se ci fermiamo qui è a causa di questo perché che la storia prende una piega particolare ecco no se Mosè adesso fa qualche cosa di strano però devo occuparmi del greggio beh Israele sarebbe ancora in Egitto fare mattoni ecco no cioè se la storia cambia è perché Mosè si chiede perché e va a vedere va a vedere lascia la via dove si trovava devia dalla sua via devia dal cammino per andare a vedere perché si è chiesto perché ed è questo perché che nasce tutto il resto della storia era per te si avvicina no poi Dio dice ma non puoi avvicinarti devi toglierti i sandali perché questo luogo è sacro e così via e Dio lo chiamano ma è la curiosità di Mosè che è l'inizio della storia Platone in un ruolo di soldi alo di Teletetro dice la capacità di stupirsi è la madre della scienza i scienziati sono quelli che dicono ma perché le cose non così un famoso esempio è la mela di Newton da quando ci sono meli sulla terra da quando maturano le mele quando si distaccano dal rano prendono sempre la stessa direzione finiscono sul suolo no si distaccano dal ramo e finiscono sul suolo niente di particolare però un giorno c'è un certo Isaac Newton che si trova sotto il melo e si dice ma perché in fin dei conti la mela potrebbe prendere un'altra direzione perché quella fra tutte le possibilità ce n'è una sola perché quella e scopre la legge della gravità universale se oggi ci sono aerei possiamo prendere l'aereo se ci sono sonde spaziali che finiscono su Marte e così via se gli uomini sono arrivati sulla luna è perché qualcuno un giorno sotto un melo si è chiesto ma come mai le mele prendono questa direzione e non un'altra stupirsi di quello che sembra naturale che forse non lo dovrebbe essere o potrebbe essere diverso Mosè è la stessa cosa no? dice perché? perché? e cambia la storia di Israele o cambia il racconto se preferite dal punto di vista storico molto diverso e poi Dio lo chiama e si lo chiama e gli dice ho visto la situazione di Israele ma lo chiama e lo chiede di andare però adesso facciamo una piccola pausa prendo probabilmente il capitolo 3 e poi percorreremo il resto del alcuni il resto del libro dell'Esodo ma capitoli più importanti tutto all'inizio del capitolo 3 è basato sull'uso di un verbo il verbo vedere che inizia così versetto secondo no? versetto primo dice che Mosè si è inoltrato nel deserto con le ingreggie di suo suocero dietro e l'angelo del Signore si fece vedere a lui nella fiamma di fuoco di mezzo al roveto e vide ed ecco il roveto stava bruciando il cespuglio il pugno stava bruciando nel fuoco e il roveto non era consumato e allora Mosè dice ma vorrei andare a vedere Dio vede che Mosè sta per venire e gli dice allora togliti i sandali e quando Dio si è rivelato parla a Mosè e dice ho visto davvero ho visto la miseria del mio popolo in Egitto ho sentito il suo grido e ho conosciuto la sua situazione proprio prima di questo Mosè Mosè si è coperto il volto per non guardare Dio perché temeva di guardare Dio temeva quindi Mosè ha il volto coperto e Dio dice ho visto qui a partire da questo momento Mosè deve vedere quello che Dio vede deve sentire quello che Dio sente e deve capire quello che Dio capisce quindi è una trasformazione di Mosè allora è interessante vedere che Mosè ha una visione di Dio ma Dio gli fa vedere la miseria del suo popolo quindi vedere Dio per Mosè significa aprire gli occhi e vedere la miseria del mondo miseria del suo popolo deve imparare a vedere le cose come Dio le vede a sentire come Dio sente e a capire come Dio capisce sono tre verbi ho sentito ho visto ho capito ma Mosè a questo punto ha il volto coperto e quindi deve acquistare la sensibilità di Dio apre gli occhi e capire che quello che Dio dice allora fa uscire il mio popolo dall'Egitto Mosè riceve quindi un incarico di far uscire il popolo dall'Egitto e Mosè esita allora abbiamo un racconto di vocazione come ce ne sono tanti ci sono parecchi nell'Antico Testamento vari profeti la vocazione di Isaia non è esattamente di questo tipo quella di Geremia quella di Gedeone Ezechiele un po' così e nel Nuovo Testamento il racconto più vicino a questo racconto di vocazione è quello di l'annunciazione a Maria normalmente c'è un'apparizione saluto così via poi una missione poi una obiezione risposta all'obiezione e poi la conclusione e quindi abbiamo qui l'apparizione un po' come l'angelo che appare a Maria missione non l'obiezione ma come questo si farà qui Mosè non è un personaggio qualsiasi ha cinque obiezioni una non fa sempre in dettaglio ma cinque obiezioni potrebbe dire ma il più grande profeta dovrebbe dire subito di sì e no il più grande profeta è quello che ha più obiezioni vedremo perché e poi la risposta c'è un segno poi Dio promette di assistere e poi conclusione perché mi direte subito il problema perché c'è un'obiezione allora Mosè chiede ma qual è il tuo nome no poi qual è il segno che tu mi hai mandato poi io non so parlare poi puoi mandare chiunque vuoi no perché devo essere proprio io ancora perché vediamo è tipico dei racconti biblici di vocazione il centro il perno della vocazione è l'obiezione come mai e per questo è il segno di autenticità oggi è la festa di Francesco Saverro Gesuita e allora nelle nostre comunità piccola barzelletta così però mi rimara no quando i superiori devono scegliere un nuovo rettore di una casa si dice così no se ce n'è uno che desidera diventare rettore allora certamente non lo deve diventare ma se ce n'è uno che non ha nessuna voglia di diventare quello probabilmente è quello che farà il buon suo rettore e perché perché si accorge della difficoltà capisce quali sono i problemi e chi capisce dice no non voglio chi non vuole normalmente ha le qualità necessarie per diventarlo chi ambisce il profe normalmente non capisce esattamente cosa si tratta ecco non proviamo subito applicare questo alla politica torniamo adesso al nostro testo quindi Mosè il più grande profeta è colui che ha più obiezioni perché è colui che si accorge di più della difficoltà e soprattutto nessuno potrà dire che è diventato il Mosè che conosciamo perché era ambizioso non era affatto ambizioso la prova è che non voleva affatto ha fatto tutte le obiezioni possibili immaginabili troviamo il riassunto di tutte le obiezioni degli altri profeti probabilmente questo racconto abbastanza tardivo si ispira degli altri racconti in vocazione di Geremia Gedeone Isaia e così via dirà come Geremia per esempio non so parlare non sono un uomo di parole ho le labbra incirconcise letteralmente poi chi sono io come Gedeone fa il riassunto di tutte le obiezioni possibili degli altri profeti significa non aveva nessun interesse non era ambizioso e non era un illuminato ecco no 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 quindi abbiamo le risposte a tutte le possibili obiezioni che possiamo fare o che si potevano fare contro la vocazione di Mosè no e come dirà il capitolo 12 del libro dei numeri era il più umile di tutta la terra o umile umile si non si può criticarlo perché ha fatto carriera no si è diventato quello che è e perché ha ricevuto un incarico no e ha ricevuto l'incarico quando Dio gli ha fatto capire la situazione del suo popolo bisogna fare qualche cosa bisogna fare qualche cosa quello che è interessante anche no riflettendo un po' a certa distanza prendendo un po' distanza dal testo biblico Mosè poteva fare diverse cose c'erano diverse soluzioni quella che conosciamo certamente quella che ci viene immediatamente in mente però Mosè non rovescia il faraone cioè non cambia non va non organizza una rivoluzione in Egitto non prende il posto del faraone no la soluzione è uscire andare altrove non si può rimanere in Egitto si va altrove bisogna uscire uscire e uscire nel deserto ecco no dove non c'è niente quindi è una situazione molto difficile e basterà poco tempo per sentire il popolo allagnarsi mormorare protestare organizzare sciopere e così via no no è uscire uscire dove non c'è niente ma poco importa bisogna uscire dall'Egitto non è possibile vivere la libertà finché si vive in Egitto e il testo è interessante questo è un punto di vista perché il racconto della nascita di Mosè è un racconto ben conosciuto in tutto il vicino oriente antico in tutta l'antichità anche in Grecia è la nascita del rivale del re un racconto che ritroviamo nel nuovo testamento in Matteo quando arrivano i re i tre re no? i magi questo racconto riprende elementi ne conosciamo almeno una trentina ecco di racconti di questo tipo nasce un rivale che è normalmente di grande famiglia poi è esposto anche c'è persino un testo alla Mesopotamia in un re Sargone ma che è stato esposto raccolto poi finalmente prende il potere quindi questo racconto potrebbe suggerire che Mosè nasce diventa un rivale del faraone no? il faraone vuole ucciderlo e lui sfugge scampa al pericolo di morte e poi alla fine normalmente ritorna e prende il potere così no? lui nasce e poi viene educato dal faraone e potrebbe un certo punto salire sul trono dell'Egitto un po' come Gesù no? Erode capisce che quello è un rivale anche nel Nuovo Testamento si prende un'altra via Mosè non diventa faraone in Egitto non prende il potere va altrove va nel deserto anche Gesù andrà per almeno 40 giorni nel deserto che prende un'altra via che è un altro tipo di potere altro tipo di autorità un altro tipo di vita un altro stile qui Mosè non diventa faraone beh si con le loro tutte le obiezioni quindi è una vocazione autentica e l'autenticità viene dalle obiezioni ecco è importante nella Bibbia mostrare le obiezioni se non ci sono obiezioni significa che la vocazione forse non è autentica ecco una delle possibili lezioni e questo racconto torna in Egitto Mosè non ritrova suo fratello Arone perché come dice il racconto quando Mosè dice non posso parlare allora Dio ci ma tuo fratello sacerdote lui sa parlare e tornano in Egitto entrambi vanno a trovare il Faraone e allora il capitolo 5 del libro dell'Esolo è un racconto pieno di insegnamenti vanno dal Faraone e allora arriva la domanda del Faraone chi è il Signore capitolo 5 versetto 2 chi è il Signore e perché dovrei ubbidire ascoltare la sua voce domanda la vera domanda chi è il Signore infatti è una domanda di tutto il libro dell'Esolo chi è il Signore e il libro dell'Esolo risponde a questa domanda ce ne sarà un'altra nel capitolo 17 versetto 7 non sono del deserto il Signore è in mezzo a noi sì o no chi è il Signore dove è il Signore come si manifesta e il libro dell'Esolo risponde a queste domande c'è non c'è capitolo 17 famoso capitolo che racconta il miracolo della roccia non Mosè che colpisce la roccia e ne scaturisce acqua alla fine il popolo ha messo la prova a Dio e c'è o c'è in mezzo a noi il Signore arrivano il faraone e il faraone dice ma come mai Mosè non chiede di uscire dall'Egitto allora lì di nuovo sono le costruzioni come detto nel libro dell'Esolo è come una città con costruzioni di diverse epoche ma nel capitolo 5 Mosè chiede al faraone soltanto di partire per tre giorni tre giorni per andare a onorare il loro Dio nel deserto allora sì nel deserto forse è una certa distanza non è necessariamente il deserto del Sinai come si sa quando si lascia la vallata del Nilo uno si ritrova nel deserto in Egitto forse era questo e vanno nel deserto molto probabilmente c'è una vecchia idea che ritroviamo anche già alla fine del libro della Genesi che per gli egiziani non per gli egiziani pecore sono animali sacri quindi uno non può offrire pecore e abbiamo testi anche tardivi di un tafferulio di un problema fra egiziani e ebrei perché sacrificavano pecore o c'è un Dio in Egitto che ha la testa di un montone in ariete e quindi sono animali che devono essere rispettati ecco e molto probabilmente questo motivo quando vogliono offrire un sacrificio gli ebrei vanno via nel deserto lontani questi non sono visti e non scandalizzano gli egiziani ma il farò dice ma perché partite tre giorni che cosa volete voi siete pigri pigri no la mentalità se siete pigri non volete lavorare perciò chiedete tre giorni di ferie allora invece di avere ferie è il contrario farò lavorare di più non volete fare dovete fare mattoni c'è la quantità dei mattoni che dovete fornire ogni giorno quella rimane la stessa ma dovete trovare voi la palia per fare i mattoni così non discuterete non farete reunioni sindacali non parerete di andare a fare la festa nel deserto così via avrete poco tempo da discutere dovrete trovare la palia voi stessi tutti zitti a lavorare e bene i bravi poveri ebrei devono fabbricare i mattoni e andare a trovare la palia non riescono a fornire la quantità di mattoni di ogni giorno i sorveglianti non cominciano a usare la frusta e così via finalmente tutto quello arriva a Mosè e la gente dice ma tu sei intervenuto e qual è il risultato? la situazione è peggiorata sarebbe stato meno se tu fossi rimasto nel deserto meglio non intervenire prima del tuo intervento la situazione era difficile dopo il tuo intervento è peggiorata molto peggiorata va bene e allora Dio allora Mosè cosa fa? va a trovare Dio bussa alla porta chiede inudienza e dice caro mio ti avevo detto di non mandarmi no? che l'avevo detto no? allora vedi non hai salvato per niente questo popolo quindi che vede no? tutta la lanianza parte dal popolo passa dai sorveglianti no? ma in capi del popolo Mosè e torna al capo supremo Dio allora Dio dice a Mosè caro mio adesso vedrai sto per intervenire a mano forte no? e il faraone non vi lascerà uscire vi caccerà via bene quindi primo intervento di Mosè fallimento fallimento completo e uno potrebbe dire sì fallimento il libro dell'Esodo è interessante perché mostra come superare anche questa esperienza del fallimento e inizia a partire dopo il capitolo 5 capitolo 6 fino al capitolo 12 la famosa serie delle piante di Egitto le piante di Egitto non sono dieci conosciamo no? l'acqua cambiata in sangue poi le rane poi le zanzare poi la peste del pestilenza e così via le cavalette la grandine le tenebre no? e finalmente la morte dei primogeni il punto però è che tutte quelle piaghe sono una risposta alla domanda iniziale del faraone chi è il signore quindi noi siamo certamente molto attenti alla sorte di Israele e alla situazione di Israele e vogliamo il cambiamento della sorte di Israele che è il cambiamento di situazioni il racconto però è più centrato sul problema di conoscenza cioè il faraone ignora Dio e quindi Dio si rivela e le piaghe che noi interpretiamo molto spesso come castigli del faraone in realtà non sono esattamente castigli sono modi di rivelare al faraone chi è Dio e che c'è un Dio c'è un Dio c'è un Dio che interviene in Egitto perché c'è una piccola frase che ricorre in tutto il racconto delle piaghe affinché gli egiziani sappiano che io sono il Signore affinché sappiano quindi lo scopo è rivelare è un racconto di rivelazione no e la domanda è quando finalmente il faraone riconoscerà come sappiamo indurisce il suo coro e rifiuta tante volte fino a quando arriva l'ultima piaga quella della morte di primo genito è importante questo punto le piaghe sono rivelazioni rivelazioni come è semplice no quasi tutti i fenomeni i fenomeni tutti i fenomeni descritti nelle piaghe di Egizio sono fenomeni conosciuti cioè l'acqua che si cambia in sangue questo accade ogni anno infatti quando arriva la piena del del Nilo no ogni primavera quando comincia a piovere nel fondo dell'Africa si sciolgono le nevi le montagne più alte il Nilo cresce e cresce arriva la piena e poi trasporta argilla e così via quindi il colore del Nilo cambia questo è prima della costruzione della diga di Aswan ogni anno cambiava il colore quindi l'acqua diventa il colore rosso come il sangue le rane ma si ecco no zanzare non è un miracolo questo è un miracolo quando sparescono le zanzare insetti e così via persino la grandina e se badate bene il racconto che descrive la grandina è più lungo degli altri perché è un fenomeno molto raro in Egitto però è conosciuto anche in Egitto cavallette si questo è molto conosciuto tenebre si e quando soffia il vento dal deserto con la sabbia non si può capire uno è incapace di muoversi e persino la morte dei primogeniti allora di tutti i primogeniti ma probabilmente il racconto il racconto biblico dico questo è una mia barzelletta una mia battuta no? i racconti biblici sono come il pesce il pesce pescato dal pescatore la domenica a questa dimensione no? tutti lo vedono il lunedì quando va in ufficio il pescatore dice il pesce era così no? e racconta agli amici colleghi così via e durante tutta la settimana il pesce cresce cresce alla fine della settimana era così grande che ha dovuto far venire un camion per portarlo a casa no? quindi i racconti biblici sono abbelliti no? è facile ritrovare anche dei vangeli così via ma poco a poco si accumulano i dettagli e molto brevemente l'origine del racconto è la morte del primogenito del faraone infatti la prima volta che si parla in questo capitolo 4 del libro dell'esodo si parla no? tu non vuoi lasciare se tu non lasci uscire il mio primogenito cioè Israele allora morirà il tuo primogenito uno per uno no? ora la morte del primogenito di un sovrano è una catastrofe nazionale no? perché è l'erede del trono quindi crisi grande crisi grande crisi no? perché la linea dinastica rischia di essere interrotta e così via e molto probabilmente è questo poi da lì la morte del primogenito delle faraoni diventa no? diventa poco a poco la morte di tutti i primogeniti di tutte le famiglie d'Egitto e poi persino la morte dei primogeniti degli animali quando uno legge il capitolo 12 ma questo è il pesce che è cresciuto almeno dopo una settimana se non di più ora ho letto io non sono medico quindi non conosco tutto questo ma sembra che in antichità e forse ancora oggi c'è una malattia particolare che colpisce i primogeniti è molto possibile che sia un caso di questo tipo o il ricordo della morte di un primogenito di un faraone che è rimasta nella nella memoria collettiva del popolo e anche finalmente ha trovato via fino al racconto quindi sono fenomeni naturali ma significa tradotto in un linguaggio molto semplice che il faraone è tutto faraone che ha un potere limitato lui non comanda il nilo non può decidere quando il nilo ha la sua la piena del nilo non decide quando ci sono rane non ci sono rane non può comandare le nazanzare non può comandare gli insetti non può guarire il bestiame che soffre di una pestilenza di qualche malattia non può impedire le cavalette di invadere il suo paese non può comandare le nuvole e dire non proibire che ci sia la grandine no non può non può impedire al vento di venire dal deserto non comanda la salute della gente non comanda la salute degli animali quindi ha un potere limitato deve riconoscere questo potere limitato e quindi deve riconoscere che non ha il potere di privare il popolo della sua libertà anche questo la libertà della persona non appartiene al sovrano non appartiene questo sarebbe il messaggio delle piaghe d'Egitto e ce ne sono dieci quindi uno potrebbe dire o uno può dire che Dio ci ha messo il tempo no non ha mandato soltanto un avvertimento no più di uno sono dieci e potrebbe anche venire da una riflessione sulla vita quotidiana il faraone deve riconoscere non riconosce salvo quando arrivano arriva l'ultima piaga cioè la morte dei primogeniti ad Alibè chiama Mosè e dice andate via tutti quanti al più presto possibile e partono tutti durante la notte dopo la celebrazione della Pasqua allora salvo questo aggiungo soltanto che la celebrazione della Pasqua è l'anticipo della libertà il primo atto di libertà perché è culto culto e nel mondo biblico e soprattutto nel libro dell'Esodo il vero servizio servizio lavoro servizio è servizio di Dio e la liturgia dovrebbe essere l'immagine del vero servizio perché è gratuito gratuito si fa il servizio di Dio non è utile non è utile è come l'arte è come la musica è come la pittura no? non è utile però è significativo significativo della libertà si fa perché si vuol fare e si vuol fare anche con libertà con amore con arte e arrivare a fare qualche cosa che ha valore in se stesso non perché serve ad altra cosa no? l'ideale è di fare qualche cosa che ha valore in se stesso e quello è la liturgia ha valore in se stesso la liturgia almeno dovrebbe essere così ecco il popolo esce dall'Egitto no? cammina un giorno no? sono le tappe e il terzo giorno allora sì ma un po' di tempo non mi sapevo comunque su questo capitolo 14 perché è una delle letture centrali della veglia pasquale dopo tre giorni beh Dio chiama Mosè un racconto che arriva capitolo 14 diviso in tre parti purtroppo la liturgia inizia nel versetto 15 e quindi lascia tutta la prima parte e Dio chiama Mosè e dice perché credi verso di me è un po' difficile capire ma vabbè come si sa nella liturgia c'è uno strumento molto importante che sono le forbici che tariano i testi biblici spesso nel posto sbagliato ma pazienza è così quindi mancano 14 versetti ma senza questi 14 versetti è molto difficile capire il resto del racconto beh cosa capita in questi 14 versetti ve lo dico adesso beh Dio chiama Mosè e dice di prendere un'altra direzione e di andare verso il mare e di accamparsi verso il mare poi il narratore ci trasporta dal deserto ci trasporta questo possono fare i narratori torniamo nel palazzo del faraone e assistiamo lì a una discussione il faraone dice tutti i suoi ufficiali noi i suoi ministri i suoi servitori i suoi servitori che cosa abbiamo fatto la mascia non lasciamo partire non abbiamo lasciato partire la nostra mano d'opera cantiere vuoti non si fa più niente niente mattoni stupidi siamo e cosa facciamo adesso possiamo far rivenire altra mano d'opera così da dove no? sì l'unica cosa da fare è andare a ritrovare questi ebrei e farli tornare in Egitto a riprendere il lavoro beh tre giorni quindi preparati per questo esercito è interessante perché il racconto ci descrive l'esercito i carri tutti i carri cavalli cocchieri così via no? e sono trecento poi tutti quanti assistiamo passiamo così perlostriamo tutto l'esercito vediamo tutto l'esercito che si prepara formidabile esercito no? formidabile e noi assistiamo gli ebrei stanno camminando in deserto non sanno niente ma noi vediamo noi lettori e il narratore ci descrive e poi si decide di partire no? e per sì un piccolo dettaglio ogni carro ha tre uomini c'è un terzo uomo su ogni carro significa è l'armamento l'esercito più sofisticato del tempo perché ci sono tre allora uno per guidare i cavalli uno per combattere con l'arco le frecce o la spada e il terzo per comandare vuol dire dove andare è proprio l'ultimo grido dell'esercito è questo più sofisticato non si può è quello che si lancia ad inseguire un povero popolo che non è armato erano schiavi fino a poco tre giorni fa il racconto organizzato in questo modo ha uno scopo molto semplice perché ci fa vedere perché ci fa temere per gli israeliti fa nascere in noi la paura il timore ma l'inquietudine l'ansia ma cosa capiterà quando questo esercito formidabile rapidissimo raggiungerà gli israeliti nel deserto beh poi il racconto si dice allora tutti si mettono a inseguire di gran carriera il popolo nel deserto e il popolo camminava stava camminando con la mano alzata che è il gesto di libertà ma noi vediamo l'esercito vediamo gli israeliti gli israeliti non hanno ancora visto e quindi cresce cresce l'ansia la paura beh versetto seguente stanno inseguendo e raggiungono gli israeli che stavano preparando l'accappamento presso il mare noi vediamo l'esercito sta lì gli israeliti stanno lì con martello i pioli a preparare l'accampamento presso il mare quindi intrappolati fra l'esercito egiziano e il mare nessuna via di scampo ma noi abbiamo visto gli israeliti non ancora versetto 10 alzano gli occhi sentono qualche rumore suppongo vedono gli israeli gli egiziani che li stavano inseguendo e gridano verso il signore ma certo il mare davanti gli egiziani dietro non gli gaviglia di soluzione verso il cielo ebbero grande paura e gridarono paura paura prima volta che appare questa parola nel testo riapparirà ancora due volte è il filo rosso del racconto infatti perché il racconto il narratore potremmo dire ha già generato nei lettori la paura il timore l'ansia per questi poveri israeliti lì che stanno nel deserto senza possibilità di difendersi qui la paura degli israeliti è già stata anticipata nei lettori passo due versetti perché gli israeliti si lagnano subito la loro natura vogliono tornare in Egitto ma probabilmente questo è un altro perché hanno paura di morire nel deserto hanno paura di morire nel deserto non di tornare in Egitto vogliono tornare in Egitto perché si stava abbastanza bene finalmente questi versetti hanno però uno scopo importante è dimostrare che israele libero liberato affrancato ha ancora una mentalità servile appena vede un esercito potente ridiventa schiavo e quindi il racconto vuol mostrare come israeli non soltanto sarà liberato dalla schiavitù ma anche dalla mentalità di schiavo perché è ancora una mentalità di schiavo versetti 11-12 nel versetto seguente allora Mosè dice non temete non abbiate paura questi egiziani che vedete adesso non li vedrete mai più il Signore vi salverà oggi il Signore combatterà per voi e voi starete zitti tranquilli zitti e come Mosè può dire questo sono gli ultimi versetti di questa prima parte non temete vedrete la salvezza del Signore e gli egiziani non lo vedrete mai più e dovrete soltanto assistere non dovete combattere il Signore combatterà voi no starete zitti tranquilli sono tre parti non soffermarmi troppo a lungo sul testo è la prima parte che finisce con un atto di fiducia Mosè solo Mosè solo la seconda parte versetto 25 finisce con un altro atto di fede ma questa volta non più di Mosè nemmeno degli israeliti degli egiziani perché no racconterò Dio interviene panico nel popolo e così via l'esercito si mette a fuggire e gli egiziani dicono coraggio fuggiamo perché il Signore combatte contro gli egiziani per Israele il Signore sono gli egiziani però che parlano il Signore combatte per Israele contro gli egiziani sì riconosco è un po' tardi perché qualche minuto dopo saranno ricoperti dalle acque e tutti annegati nelle acque tra questo punto riconoscono affinché gli egiziani riconoscano è quel momento Esodo 14 25 dopo tutte le piaghe finalmente gli egiziani riconoscono il racconto del passaggio del mare ha anche come scopo di rivelare Dio potrebbe dire punisce e castiga gli egiziani finalmente e il giudizio finale però anche il giudizio ha come scopo di far riconoscere non bastava nel racconto castigare far morire gli egiziani l'esercito egiziano nel mare Dio si fa riconoscere e si fa riconoscere Esodo 14 e 20 si fa riconoscere gli egiziani il Signore combatte Mosè aveva detto il Signore combatterà gli egiziani dicono il Signore combatte significa che Mosè aveva ragione e questo è confermato da chi certamente non aveva nessun interesse a confermarlo e nessuno vuole riconoscere gli egiziani un po' come nel Vangelo specialmente nel Vangelo di Marco chi riconosce per prima Gesù come figlio di Dio i demoni tra gli avversari e questo è certamente un argomento forte sono coloro che non volevano affatto anche qui sono coloro che non volevano affatto riconoscere la presenza di Dio che devono per forza riconoscerlo bene e l'ultima parte per la fine del capitolo versetto 31 allora lì si dice e il popolo di Israele gli israeliti temettero temettero e credettero temettero il verbo temere è lo stesso di avere paura qui ebbero paura Mosè dice non abbiate paura e l'ultimo versetto 31 temettero Dio non più il faraone videro il faraone ebbero paura adesso non c'è più farore quindi temore quindi il racconto descrive il passaggio dalla paura al timore in ebraico la stessa parola ecco il passaggio dalla paura davanti all'esercito il faraone fino al timore di Dio che non è esattamente la stessa cosa evidentemente meno che sia la stessa parola si passa dal timore la paura al timore paura davanti al faraone timore di Dio e fede temettero e credettero la stessa cosa in Dio e in Mosè suo servo e in Mosè suo servo Giovanni 14 1 credete in Dio credete anche in me credettero in Dio e in Mosè suo servo bene è Mosè che ha scomesso su Dio capito no? i versetti 13 14 ha scomesso non aveva nessun segno nessuna prova non poteva dire ma Dio intervenirà come già intervenuto tante volte non aveva nessuna prova non poteva dimostrare non poteva ha fatto una scomessa si è buttato buttato avanti ecco e i fatti confermano aveva ragione ha avuto ragione quindi il popolo crede in Dio e in Mosè e Mosè ha detto Dio combatterà ha combattuto e gli egiziani sono stati confitti ecco riprendo brevemente la prima parte la conosciamo ormai la seconda parte del versetto 15 a 25 ed scrive allora il passaggio del mare cosa dice Dio a Mosè come uscire da questa situazione stendi la mano sul mare no? e così le acque si divideranno e si aprirà un varco fra le acque allora tu devi entra il popolo entrerà gli egiziani gli egiziani seguiranno e io mi glorificherò gloria la famosa gloria che riappare nel capitolo 40 che viene ad avvertire l'altenda si rivela per la prima volta in questo momento quando Dio salva il popolo di Israele allora è questo che Dio Dio dice questo a Mosè e Mosè stende la mano anche col bastone le acque si dividono il popolo entra c'è anche il vento dicendo ma comunque sono due descrizioni probabilmente che sono combinate lì perché sono combinate perché gli egiziani possono morire soltanto una volta nel mare quindi è difficile avere due racconti dove gli egiziani muoiono due volte quindi hanno messo i narratori il compilatore hanno messo insieme i due racconti nell'uno c'è il vento che soffia soffia e così respinge il mare o sospinge il mare qui c'è una parte del mare che è scoperta terreno molto umido i carri degli egiziani vengono a mettersi lì c'è la nebbia durante tutta la notte come nella pianura padana ma nebbia fitta non si può vedere niente quindi non si muovono tutta la notte al mattino probabilmente il vento non smette il mare torna al suo posto e gli egiziani stanno lì prendono paura fuggono nella direzione sbagliata incontro al mare sono travolti dai freddi questa è una descrizione l'altra descrizione è quella che conosciamo di più e poi che prevale nel racconto si apre un varco gli israeliti entrano gli egiziani li inseguono quando arrivano dall'altra parte questo è il versetto 26 Mosè stende la mano e le acque ricoprono gli egiziani che muoiono tutti annegati quindi in un racconto sono travolti e nell'altro racconto sono ricoperti sepolti nelle acque e al mattino li vedono lì tutti morti se proviamo a capire un po' il mondo dei simboli di questo racconto sono simboli molto forti c'è il mare è molto spesso ripetuta la parola mare le acque ora il mare e le acque le scopriamo per la prima volta nel primo capitolo della Genesi di cui ho già parlato cioè all'inizio versetto 2 capitolo 1 tutto è recoperto dalle acque e eravamo nelle tenebre le tenebre ricoprivano l'abisso e così via e poi la prima cosa che Dio fa è accendere la luce sia la luce e c'è più la luce se no non si può fare niente quindi accendere la luce e poi crea il mondo crea la luce tenebre luce e lì abbiamo l'alternanza tra giorno e notte e poi come sappiamo dopo fa apparire il terzo giorno fa apparire la terra asciutta che chiama terra e la separa dalle acque che chiama mare i due simboli importanti tenebre e mare sono collegati nel mondo la Bibbia è il mondo del caos caos il mondo della violenza il mondo della morte e Dio fa sorgere la vita da questo mondo qui tenebre mare sono simboli della morte e li ritroviamo entrambi nel capitolo 14 del libro dell'Esodo il mare certamente stanno lì davanti al mare ma anche le tenebre perché arrivano davanti al mare la sera si accampano e abbiamo diversi testi no? capitolo 14 21 22 si parla della notte no? il vento soffia tutta la notte i due accampamenti sono separati tutta la notte e poi un po' avanti nel capitolo si dice durante la veia del mattino la veia del mattino Dio semina panico nell'accampamento degli egiziani allora la notte nel mondo biblico è divisa in tre parti la veia la prima veia la veia della sera no? sono quattro ore dalle sei alle dieci la veia di mezzo è dalle dieci fino alle due del mattino e la veia del mattino è la terza veia l'ultima dalle due del mattino fino alle sei del mattino e durante questa veia la terza veia che Dio interviene e semina il panico no? e poi si mettono a fuggire però non riescono perché i loro carri sono arenati così la veia del mattino quindi si passa da una sponda del mare all'altra si attraversa il mare e si attraversa la notte si arriva al mattino al mattino dall'altra parte del mare qui si attraversa il mare per arrivare sulla terra secca sulla terra secca scoperta quando si dividono le acque e verso il mattino che questo è il viaggio del sole durante la notte per gli antichi il sole che sparisce al tramonto all'ovest riappare all'est dove è stato? è stato sottoterra nell'oceano che sparisce nel mare riappare dall'altra parte quindi è sparito nel mare è attraversato il mare e riappare dall'altra parte quindi il popolo di Israele fa e si potrebbe dire anche che va dall'ovest verso l'est che sarà il viaggio il cammino del sole durante la notte va da ovest verso l'est Israele va anche verso il deserto da ovest verso l'est che è il cammino della risurrezione il sole tramonta ovest che è il luogo della morte muore e risuscita al mattino all'est perciò Gesù risuscita il primo giorno della settimana al mattino il primo giorno della settimana è il giorno in cui Dio crea la luce che è la nostra domenica il primo giorno della settimana non è lunedì è domenica questo famoso weekend è sbagliato è l'inizio della settimana alla domenica è il primo giorno no? e allora questo si dice nelle lingue germaniche Pasqua ist ist est 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 oster 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 no in tedesco oster il fiammingo avete queste lingue germaniche riprende la parola est est che è il sorgere del sole comunque Israele attraversa il mare ma il mondo attraversa la notte il mare quindi attraversa la morte significa si è buttato nel mondo della morte ha superato la paura della morte e quando Israele supera la paura della morte grazie a Mosee grazie a quel prodigio compiuto da Dio significa supera la paura della morte e superando la paura della morte supera la sua mentalità di schiavo sarà schiavo finché avrà paura e la grande paura è la paura di morire significa c'è qualche cosa di più importante di questa vita e lo scopre grazie a Mosee grazie a Dio e finisco perché vedo se no c'è qualche cosa c'è una parola nel capitolo 14 che è importante aprirò aprirò un varco si divideranno le acque e camminerete sulla terra asciutta terra asciutta è una parola che appare nel capitolo primo della Genesi quando Dio fa apparire la terra asciutta può separare la terra dalle acque quindi se qualcuno fa apparire la terra asciutta nel capitolo 14 non può essere che il Dio creatore quindi chi interviene a favore di Israele nel capitolo 14 dell'Esodo è il creatore dell'universo che mette al servizio del suo popolo la potenza che ha adoperata per creare il mondo è il creatore dell'universo quindi il popolo di Israele può credere e questo è proprio quello l'ultimo versetto del capitolo crede crede perché ha assistito a una manifestazione del Dio creatore dell'universo e quella manifestazione rivelazione del Dio creatore dell'universo permette al popolo di superare la paura della morte questo Dio creatore è Dio della vita è anche il Signore della vita e della morte si può comandare al mare e far apparire la terra secca può far apparire la vita nel mondo dove domina la morte siamo comunque arrivati al capitolo 14 ci rimane una sola cosa cantare con Mosè con Miriam e tutte le donne di Israele il canto di Vittoria nel capitolo 15 ma questo lo potete fare anche da sole grazie applausi 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 ecco ovviamente quando Gesù non vi dicono ma chi è costruita a cui anche le altre obbliggono sì sì ecco sì sì certamente è un miracolo molto tipico più importante degli altri perché Gesù lì dimostra di avere una potenza che è simile a quello del Dio creatore perciò sono stupiti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti